Sapete mettere in moto un automobile? Ti prego dimmi chissà dove è andata. Ecco. Hanno occhi dappertutto, seguono ogni nostra bussa. Se fosse notti avremmo più alternative. Nessuno ha mai tentato di entrare di giorno nel quartier generale della Resistenza Chrysler. I cieli sono sgombri. Buon per noi. Preferisco morire all'aria aperta che in quella prigione. Bene, attenti ora. È un lavoro in due parti. Prima dovremo colpire con precisione quel punto cieco. In posizione. Ora, via, via, via! Finché resteremo in questa nebbia non ci vedranno. Bene, ecco la seconda parte. Saltare. Non esitate. Non appena toccherete l'acqua trattenete il respiro e nuotate dietro di me. Qualunque cosa succeda state sott'acqua. Se tornate in superficie siamo morti. Ci sono nazisti ovunque. Non pensate troppo. Saltate! Grazie. Ha 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 ha. Altas sottotitoli sono fai. Le dotte? La storia di aspettare. Passate gli ultimi tre mesi in quella prigione Non doveva esserci una grata davanti alla scuola Non c'era una trattata O forse l'ho soltanto dimenticata Vecchio e c'erito di un solo Ad ogni modo, ecco la vostra nuova casa Stringi, mi sto congelando Bex! Mi sei mancato, Max Mettilo giù, Max, piano Riposo, Capitano Lui è Klaus, è dalla nostra parte Era un nazista Calma ti, Johnny Com'è possibile? Siamo nel cuore stesso di Berlino Vi nascondete in piena vista L'ultimo posto in cui potrebbero cercarci E se ci sentissero? Allora passiamo la voce Che io sia BJ Blazkowicz Soltanto tu potevi essere tanto stupido Da venire qui in pieno giorno Signora? Lieta di riaverti tra noi, Fergus Caroline, sei viva? Se questa merda la chiami vivere Ho tre vertebre spezzate Tu? Trauma alla testa Una scheggia di dieci centimetri nella cozza È ancora lì Resezione del colon Shock settico E frattura pelvica Perdita di memoria Flashback Quattordici anni in manicomio È bel rivederti, William Allora Che cosa sai fare? Che cosa ci fai qui? Felice di rivederti, Douglas Ormai dovresti essere morto, Fergus Reed Sei stato via tre mesi Seccante anomalia La gente non torna da Eisenbahn E tu? Sei partito da anni Ho sentito dire che eri morto nel 1946 Disinformazione, sempre E non ho proprio idea di chi sei Variabile in attesa Beh, niente di questo era previsto Dovrò cambiare da capo tutto il modello Grazie mille Ho sentito delle voci interessanti da Londra Ho un dossier chiamato Progetto Whisper Ma qualcuno l'ha preso Credo sia stato Klaus Saresti così gentile da trovarlo e riportarmelo, Capitano Con te qui Credo che potremmo fare grandi cose Perché non ti siedi qui con me, Ania? Ascolta quelle frequenze Se senti qualcosa da Londra Annota l'ora e registra quanti più dettagli possibile Eccoti carta e penna Posso utilizzare questa? Sai come si usa? Sì I miei genitori mi hanno insegnato Ah, per scrivere sotto dittatura Ricette e cose simili? Non proprio Mi è tornata utile ai tempi dell'Università di Londra Per il mio dottorato in archeologia Ma giunti nazisti sono dovuta tornare Avevo 16 anni Beh, dottoressa Aiutami A capire cosa combinano quei Dannati nazisti A Londra So che cerchi il dossier del progetto Whisper Non è qui Ovviamente Max, è così tatuaggi. Un giorno lo farò. Ero, come dite voi americani, esaltato quando li ho fatti. Mi duele ammettere che ne ero orgoglioso, ma voglio essere ancora più orgoglioso quando li rimuoverò. Niente nazisti, niente tatuaggi. Basta che non mi ostacoli nell'uccidere i nazisti e andremo d'accordo. Caroline sta cercando un dossier, progetto Whisper. Max non parla molto bene la tua lingua, ma conosce il progetto Whisper. È un'operazione rischiosa e sa che ci costerà molto. A Max non piace la violenza e non vuole che qualcuno si faccia male. Caroline ha detto che hai preso il dossier. Ce l'hai qui? L'ho preso due giorni fa, ma l'ho rimesso a posto. Scendi al piano terra. Il dossier è nel cassetto della scrivania della sua stanza, dove io l'ho lasciato. Da un'occhiata nella stanza di Caroline. Il dossier è nella sua scrivania. Fottuta miseria, Blazco. Sono esausto. Non dormo in un vero letto da mesi. Sparisci per un po' così riposo, ok? Svegliami se... Diciamo, se sta per crollare il cielo o qualcosa del genere. Al diavolo, vate. Dormo in un strano sogno. Le uccisioni non finiscono mai, finché avrò vita. Dormo in un'occhiata. Dormo in un'occhiata. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Max, ho bisogno che ti sposti. Max, bitte. Gezzo, seite. Das sehr ist wichtig. Max, komm hier. Come on. Come on. Aslo, aslo. Dovevo immaginare che l'avrebbe preso. Dovevo immaginare che l'avrebbe preso. Dovevo immaginare che l'avrebbe preso. Dovevo immaginare che l'avrebbe preso.